direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di Piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del Super Enalotto. Prima di procedere vi ricordiamo che l'estrazione di oggi sostiene il fondo dedicato alle emergenze nazionali ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi venerdì 13 settembre. 74.525.998 euro. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo rel via all'estrazione del concorso numero 146. Inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly. Tenete strette le vostre ricevute. È in arrivo il primo numero. Il primo numero estratto è il numero 61. Siamo al secondo numero e con Super Enalotto si inizia già a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 12. Il terzo numero sta arrivando. il terzo numero estratto è il numero 2. Pronti per il quarto numero? Il quarto numero estratto è il numero 16. Adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 59. È il momento di incrociare le dita. Stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 18. Dopo i 6 numeri che assegnano il jackpot passiamo all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly di questa sera è il numero 56. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly. 61, 12, 2, 16, 59, 18. Numero jolly 56. Ed ora passiamo al numero superstar. superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite superenalotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno rotando nell'urna. Pronti? Il numero superstar di questa sera è il numero 4. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 146 con la sestina vincente in ordine crescente. 2, 12, 16, 18, 59, 61. Numero jolly 56. Numero superstar 4. L'estrazione di oggi, venerdì 13 settembre, termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 74 milioni e 500 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 146. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del superenalotto assegna 327.529 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 74 milioni e 500 mila euro. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di superenalotto non è stato realizzato e il jackpot cerca ancora per arrivare a 75 milioni e 400 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 4 e vincono 32 mila 119 euro ciascuno. I 4 sono 720 e vincono 183 euro ciascuno. I 3 sono 20 mila 769 e vincono 19 euro ciascuno. I 2 sono 277 mila 320 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 174 mila 277 vincite immediate winbox. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 6 e vincono 18 mila 306 euro ciascuno. I 3 stella sono 121 e vincono 1901 euro ciascuno. 100 euro vanno invece 1687 due stella. 10 euro e 9 mila 188 euro 1 stella e 5 euro e 17 mila 714 zero stella. Inoltre 74 vincite da 50 euro ciascuna e 11 mila 183 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate le combinazioni non vincenti. Vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Super Enalotto Verifica Vincite. L'app è disponibile per tutti gli smartphone per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it. Vi ringrazio per essere stati con noi. Super Enalotto vi dà appuntamento a domani sabato 14 settembre. Giocheremo per un checkbox di 75 milioni 400 mila euro. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.